solo fammi un cazzo di cross passaggio bellissimo mi possa centrare il posto centro 7 a 0 un risultato mai visto 7 a 0 prima di fare queste cose non si può guardare io la passo a lui che tira e rete 8 a 0 da 8 a 0 marcato stretto palo rete un gol bellissimo marcato stretto è poco però lo saltiamo di netto lo saltiamo con un modo incredibile ci proviamo che sentiamo proviamo il tiro 10 a 0 raga 10 a 0 doppia cifra un risultato che una partita non si è mai visto 10 a 0 6 gol ho fatto sei gol raga in una partita 6 gol parma palermo prima in classifica adesso seconda classificata in modo che io possa passare la palla così e entra in rete saltare così e saltarli ma che lo saltiamo ma che lo saltiamo possiamo tirare in rete 2 a 0 un gol anche no facciamo il terzo 3 a 0 con un'azione incredibile così perfetto recupero gol non è il mio assist perché l'ho tirato però si trova al posto giusto al momento giusto questo è il palermo era possibile cercare l'avanzato da solo in queste condizioni ci prova tira 5 a 0 quello noi proviamo ovviamente a fare le nostre giocate incredibili e a fare il sesto gol tripletta anche per l'estero ci sono arrivato guardami così perfetto 7 a 1 ho fatto anche il quarto prendi la palla prendi la palla aspettavo bastavela a me così che facciamo l'ottavo 8 a 1 ho fatto una cosa bellissima fine partita 1 a 8 5 gol fatti anche in questa partita 5 a 6 sono 11 gol in 3 partite 5 a 6 5 a 6 facciamo un cazzo di cross passaggio bellissimo mi posso accentrare mi posso accentrare a provarci ad effetto me l'ha parata è incredibile l'ho montata anche fuori ma che cazzo è sono in mezzo sono in mezzo passatemi la palla basta spunto la forza 7 a 1 madonna un parto un parto raga di tacco ho fatto una cosa di tacco bellissima se ne prendeva ci potevamo andare a sedere proprio da calcettra un risultato da calcettra non da calcettra un tic la classifica è questa ora a 9 punti di distacco a 8 punti scusate 42 51 9 punti sono 9 vabbè però loro hanno una partita giocata in più andiamo a stracciare di nuovo il Genova perché a quanto pare non lì è bastato vediamo se riesco a saltarlo ci riesco incredibile ci posso anche provare però l'ha parata ovviamente da quella distanza non è facile mai segnare però l'ho saltato quello là non sono riuscito a saltarlo c'è il mio compagno perfetto perfetto così vediamo se riesco a fare l'assist mi sa che è un po' di gioco è la maledizione della serie B proprio in serie B non possiamo fare niente vabbè c'è la stessa squadra che abbiamo fatto su te colo sembra il Real Madrid sembra a compronto questi si sono geneticamente modificati oppure si sono drogati non lo so lo salto lo salto posso provare sul tiro sul tiro sul tiro fanculo stiamo perdendo in serie A non dobbiamo perdere se no perdiamo punti dal farm ma cazzo bene o me cazzo suono eh atteggiare perché c'è uno spaccio enorme posso provare vaffanculo vaffanculo troppo allora sto cominciando a dare i numeri ragazzi non fateci caso questa è bella questa è bella questa è bella guardami che sono da solo qua vaffanculo vai non riesco a fare niente non riesco a fare niente in questa partita se questo figlio di troia non mi tenesse da maglia forse ci riuscirei a correre se non bestemmio guarda è possibile porta Anna la Madonna non è possibile non è possibile guarda che schifo oh Madonna oddio ecco padre può nascere qualcosa di interessante si alza la bandierina fuori il gioco di sto cazzo se l'ha rotta la minchia questo fuori il gioco di merda guardali guardali sti cosi brutti guarda che schifo sei un finocchio schifoso non sei capace a giocare nulla di serio e di competitivo non sei in grado di gareggiare contro altre persone farti valere perché non vale niente sei grasso o sei un grassone borsa di merda schifosa proprio posata l'età della serie c'è scritto merda proprio oppure sei un bambino schifoso schifoso antica mongoflettico che appena si torna da casa dalla scuola si siede e fus una squadra di merda abbiamo guarda che merda è un bestiamine per forza scuola demonio questa è buona no poverino si starà mangiando le mani per questo errore caricchio sostituzione addirittura posso avanzare posso avanzare ci posso provare no ma cosa fa quello è impossibile una cosa del genere è impossibile sul tiro di nuovo sul tiro di nuovo è impossibile è impossibile è truccata questa cosa qua è truccata non c'è altra spiegazione porco demonio è impossibile una cosa del genere ottimo tiki taka qui gran dribbling si e ecco l'unico del proletto se l'ho finita finalmente cazzo mi ha sostituito mi ha sostituito ma ti rendi conto mi ha sostituito cazzo